Questa è la piazza grande di Locarno dove ci sono le proiezioni serali dei grandi film, 5.000 posti all'aperto nella piazza cinematografica più grande d'Europa. Aspettiamo soltanto che si faccia sera perché sarà la serata di Hilary Swank. Un'attrice i cui ruoli e la storia della sua stessa vita sono emblema della forza e della tenacia femminile, una donna che sa accettare la sfida di un copione a prescindere che sia sul set o nella realtà. Hilary Swank è stata accolta così dal pubblico di Locarno, nell'edizione che la celebra. Grazie a tutti. I am so happy to be here. This is such a beautiful country. You are such beautiful, inviting, welcoming people. And it's just, it's lovely to be in a film festival with fans who champion storytelling. So thank you so much for being here and thank you for having me. Qui in Piazza Grande la consegna del Leopard Club Award e la proiezione dei due film che le hanno fatto conquistare gli Oscar. Boys Don't Cry di Kimberly Peirce, datato 1999. La Swank interpreta l'adolescente transgender Brandon Tina, violentata e assassinata nell'Ebraska nel 1993. E un capolavoro di Clint Eastwood, Million Dollar Baby, che nel 2004 portò l'attrice sul ring con guantoni, sangue e lacrime, nel ruolo forse più intenso e maturo. Il fatto che incombe, ma che non piega il carattere dell'atleta di box che ce la fa sfondare, ma che un colpo letale condanna l'infermità indimenticabile. I hope to see you every year here in Locarno. Me too. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's beautiful. Thank you so much. Look at this, everybody. Un applauso grandissimo. Grazie a tutti. Thank you. La popolarità della Swank è recentemente legata a sui ruoli televisivi negli Stati Uniti in Perversa Trust. Sembra una vita fa, quando negli anni 90 esordì in Beverly Hills 90-210, serie che proprio adesso sta per tornare in vita 30 anni dopo, con l'assenza triste di Luke Perry. Ma quegli occhi tenaci, il sorriso aperto e la figura fiera parlano del suo percorso. Raccontano della ragazza Lily Lincoln, nell'Ebraska, che sognava di fare l'attrice, che a 15 anni si trasferì a Los Angeles con la madre, il suo grande sostegno, vivendo fra gli stenti prima del suo primo ruolo TV. Qui sul palco di Locarno c'è la grande donna, prima ancora che la grande diva. Un paio in cui tutti parlano molte lingue, io parlavo una, ma in realtà due, parlavo inglese e parlavo storia. E la storia è quella lingua universal, come tutti noi conosciamo, che ha no borders e no boundaries. We get the opportunity to connect with all people from all over the world through these stories, e we're reminded that we're all really the same. We want to give and receive love. We want to find our true purpose and live it. and it also gives us the chance to celebrate our differences. So here we are in this, you know, this wonderful film festival. Thank you for bringing films here, for everyone to enjoy and reconnect and in all these ways I'm speaking. And thank you for this great, incredible honor. I look forward to coming back and watching movies with you and hopefully premiering one of my next movies with you. Thank you very much. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Grazie tantissimo. Grazie tantissimo, 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 gra